che l'ospedale poteva essere realizzato in 5 anni, come dice qualcuno. Avrei potuto dire che l'ospedale si realizzava in 9 anni o 10, invece i tecnici mi hanno detto con questo tipo di progettualità, con 5 step, l'ultima pietra, l'ultima apertura e quindi è un percorso, quindi non è che l'ospedale si fa fra 15 anni come hanno scritto oggi i giornali, è un percorso, il percorso si parte con, e dopo vedremo insomma, con l'ospedale della mamma e del bambino e avanti così, sono degli step che finiscono fra 15 anni, ma non avremo l'ospedale fra 15 anni, quindi questo è chiaro, avrei potuto dire si fa in 7, 8, 10 anni, ma invece quello che mi hanno corrisposto i tecnici è stato quello che abbiamo mandato su in regione, in maniera del tutto precisa e regolare e dove all'interno c'è tutto, c'è il costo di demolizione, c'è il costo di spostamento degli impianti, c'è lo spostamento della dorsale, c'è tutto quello che dovrà spendere la regione Veneto in 15 anni, quindi con la possibilità quindi di finanziare anche anno per anno, un progetto di nuovo ospedale a Padova.